buongiorno sono ana crespi questa è la classifica dei dieci libri di narrativa italiana più venduti questa settimana al decimo posto troviamo ombre sul lago i delitti del lago di como di cocco e magella al numero 9 con tanto affetto che ammazzerò di pino imperatore al numero 8 le altalene di mauro corona questo libro è appena uscito da dieci giorni eppure è già risalito sul sulla classifica perché mauro corona è uno scrittore molto amato in italia è anche un alpinista è un grande scultore lavora in legno soprattutto ed è anche un comunicatore a volte bizzarro che appare spesso sia in televisione che attraverso altri media dunque è cresciuto a erto è un paese nella valle del bayonne e da adolescente fu colpito da l'evento drammatico che sconvolse l'intera zona vicino a belluno siamo in friuli allora cosa è successo il 9 ottobre del 1963 c'è stato il distacco e la caduta di un'enorme massa di roccia dal proveniente dal monte toc in una diga che provocò un'onda alta più di 250 metri che sorpassò la diga e si riversò nella valle sottostante uccidendo quasi duemila persone come emerse poi negli anni successivi la diga non avrebbe dovuto essere costruita in quel posto le evidenze degli studi geologici avevano predetto la possibilità di una frana ma altri interessi economici avevano fatto sì che i lavori e se completassero ugualmente a 60 anni dalla tragedia del bayonne corona pubblica questo racconto che non è il primo libro su questo argomento che scrive ma questa volta il racconto è più intimo e personale e condivide con lettori i suoi ricordi e tutta una serie di riflessioni sulla sua vita di adulto e ora di anziano insieme alla storia della nostra società in questi anni corona in questo romanzo lirico e molto intimo conduce il lettore a muoversi avanti indietro nel tempo il vecchio di oggi ricorda il suo mondo di com'era prima che l'avidità di pochi lo distruggesse e poi ci racconta la maturità la vecchiaia il presente e il simbolo di tutto questo sono le altalene del paese che il narratore ricorda nel loro sillare gioioso tra le grida dei bambini e che oggi vede ferme vuote e arrugginite e leggo un pezzetto per capire come scrive corona in questo libro dunque fu una serie queste sono le campane del paese allora fu una sera come le altre via vai posterie fumose e qualche canto anche la notte come le altre fino a un certo punto l'ora e il giorno si possono mettere il rumore no la montagna non si reggeva in piedi ubriaca di uomini sapienti un misto di civismo ed interessi di prepotenza e cemento cemento davanti vite umane dietro il torrente sprofondato nella sua stessa acqua non quantava più piove terra sulla terra terra nell'acqua terra su duemila fosse aperte c'era luna piena sereno vento sottile quel vento porta ancora le voci scomparse allora andiamo avanti con la nostra classifica e riprendiamo dal numero 7 e troviamo la porta lettere di francesca giandone al numero 6 come daria di ada da madamo al posto numero 5 la morra cinese di marco malvaldi in quarta posizione tre ciotole rituali per un anno di crisi di michela murgia al numero 3 stella di mare di piergiorgio pulixi in seconda posizione una piccola formalità di alessia gazzola e al primo posto a capodora di michela murgia con questo vi saluto arrivederci a prima settimana no